Le fiamme sono divampate nella mattinata nelle campagne di Arezzo, un incendio che ha interessato un'oliveta in zona Poggio Mendico, domata dai vigili del fuoco di Arezzo, presenti con la squadra di terre e con l'elicottero. Ancora un incendio in questo anomalo e torrido inizio autunno. L'estate infatti sembra non voler mai finire e con le alte temperature di questi giorni il rischio roghi resta elevato. La Regione Toscana ha così deciso di vietare l'abbruciamento di residui vegetali da oggi sino al prossimo 22 ottobre. In tutto il territorio regionale, complice anche il vento, nell'ultima settimana si sono già verificati 25 incendi con 7 ettari di bosco ed altri 12 ettari di vegetazione percorsi dalle fiamme, molti dei quali originati da operazioni di abbruciamento di residui vegetali non gestite nel rispetto delle norme. La mancata osservanza del divieto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia. Se si nota fumo in lontananza, la raccomandazione è quella di chiamare subito i soccorsi al numero unico di emergenza 112.